buonasera 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 a tutti buonasera buonasera a tutti sto facendo entrare adesso un po tutti perché si stanno ancora connettendo 5 minuti intanto benvenuti ben trovati buonasera vedo molti amici connessi molto piacere ciao francesco buonasera perché il figlio buonasera buonasera allora intanto vi spiego i partecipanti scusate ma c'è una confusione infernale segniamo tutti i microfoni altrimenti non si sente nulla bianca che mangiai allora ragazzi mi raccomando dicevo potete mettere i microfoni gentilmente in basso a sinistra cliccate sul microfono e potete metterlo silenzioso in modo tale che non si crea confusione dopodiché se volete prendere la parola naturalmente potete riattivarlo e fare domande buonasera a tutti intanto saluto a tutti quelli che stanno entrando adesso ciao seo si è recato a visitare la fortezza di monte alfonso a castelnuovo di garfagnana abbiamo anche messaggi promozionali buonasera allora sto facendo entrare gli altri ciao a tutti buonasera ciao francesco buonasera a tutti allora che tardi si collegherà anche Luisa che è la responsabile della formazione del centro sperimentale di fotografia adams di Roma con il quale abbiamo organizzato questa serata e questa è una lezione aperta di illuminotecnica dove parleremo appunto della luce è una lezione introduttiva in realtà al corso base di illuminotecnica partirà settimana prossima quindi abbiamo deciso di fare questa lezione diciamo di aperitivo lasciando l'albertà a tutti in modo tale da far conoscere anche quali sono diciamo le fondamenta in base all'illuminazione del ritratto fotografico e non solo perché quando parteremo stasera per vedere di luce non parliamo solo del ritratto ma parliamo un po' di tutti i generi fotografici e parliamo anche del video tutto quello che viene caratterizzato attraverso la luce che non è soltanto illuminare bene la scena ma è conferire una certa emotività al nostro ritratto e caratterizzarlo in un certo modo adesso non mi dilungo subito su queste tematiche così faccio prima entrare tutti quanti perché mi vedete buonasera perché sto facendo entrare tutte le persone siamo già novanta quindi novanta eh sì buonasera a tutti intanto do benvenuto a tutti quelli che si stanno connettendo adesso c'è sempre un attimo di cinque dieci minuti non arriverà quindi chiedo a chi sia collegato sei famoso sei famoso sei internazionale intercontinentale faccio la pubblicità in colombia adesso eh sì no io vivo in colombia qui sono le tre del pomeriggio quindi mi sono collegato proprio adesso un abbraccio forte quindi grazie anche a te mi fate sentire in Italia grazie a tutti ben trovato ok allora credo che abbiamo raggiunto il limite perché massimo cento partecipanti possiamo fare entrare credo che siamo sold out sì poi vedo che siete parecchi quindi per chi non riesce ad entrare al limite centro Luisa che possiamo condividere poi la serata su su YouTube per farla vedere magari per chi non è riuscito ad entrare troppo questo è il limite eh di zoom ok diciamo che siamo ce ne erano altri ma purtroppo siamo arrivati al numero massimo di partecipanti faccio un saluto a tutti sto facendo una carrellata vedo un sacco di amici buonasera a tutti forse persone anche nuove che magari hanno visto l'invito sui vari gruppi qui c'è la chat non so se riuscirò a leggere tutto comunque eh vediamo no forse cento no non mi fanno entrare forse cento niente da farlo ok va bene poi se ci cliccherò il limite la pubblicheremo su uno su YouTube allora eccoci qua adesso vi farò vedere più o meno quello che facciamo normalmente fatto salvo che stasera non c'è il set fotografico qui dietro come un soggetto perché durante le nostri corsi eh normalmente facciamo anche dei set live non proprio qui dove è dietro le mie spalle ma come in questa modalità con una modella dietro con l'esposimetro con le luci dove spieghiamo proprio come si struttura uno schema luce e come funziona la eh il settaggio delle varie luci flash e continua in relazione all'esposizione questo per andare a vedere proprio la parte tecnica se la parleremo non solo chiaramente eh la parte tecnica si eh riusciremo a parlarne durante il corso e mai approfondire stasera parleremo soprattutto della della logica che c'è alla base della luce e del ruolo che ha l'illuminazione della fotografia perché spesso viene diciamo un po' eh sottovalutato ho sentito frasi eh del tipo anche di di colleghi dove eh qualcuno no che magari è molto più concentrato su altri aspetti cosa che tra l'altro eh non viene pregurosa dalla conoscenza della luce eh dire che magari anche un fotografo non è stato mai ricordato per la sua luce però dall'altra parte c'è da dire che senza la luce probabilmente non sarebbe stato ricordato perché la luce è un elemento molto importante ai fini della comunicazione visiva infatti quando parliamo di illuminazione anche durante i corsi che ho fatto adesso sono chiusi tutto il ciclo dei corsi perché adesso inizierà il base poi c'è l'intermedio poi c'è grazie mi raccomando c'è quello di comunicazione visiva e poi c'è quello della gestione del soggetto quindi della pose in relazione alla luce perché se facciamo un ritratto piuttosto che una foto di moda o una pubblicitaria cambia naturalmente l'approccio all'illuminazione in relazione a ciò che dobbiamo eh trasmettere e qual è la finalità della nostra della nostra immagine quindi andiamo a vedere proprio quali sono le logiche che ci sono alla base della costruzione di un schiamo luce per la finalità del nostro scatto per il concept che stiamo esprimendo e per il progetto che c'è dietro infatti parliamo proprio di progettualità Rosera vorrei iniziare adesso direte che c'entra con la luce però lo è molto interessante e importante proprio per far capire come la luce si va a incasellare in un quadro generale di tutte le cose e tutti gli aspetti che bisogna curare nella fotografia e alla base c'è proprio la costruzione del progetto dal quale per esempio in una foto di moda si estravola il cosiddetto mood la cosiddetta atmosfera il filo conduttore poi il concept album del nostro progetto fotografico sulla base del quale si va a strutturare tutta la serie di immagini che poi andremo a produrre quindi partiamo proprio dal ritratto perché fondamentalmente parleremo di luce anche per lo still life e per altri generi però è molto orientato naturalmente sulla caratterizzazione del ritratto il ritratto ripeto intendo tutto ciò che ha a che fare con fotografia di soggetto io per chi magari non mi conosce ha visto in video mi occupo di fotografia pubblicitaria e di ritratto istituzionale quindi faccio dalla moda alla pubblicità a dei ritratti anche su commissioni quindi in poche parole tutto quello che ha a che fare con dei soggetti che vengono fotografati e la prima cosa che spesso mi trovo a dover affrontare è dove contestualizzare lo scatto se in studio o no la question indoor oppure all'aperto e che cosa voglio dal mio ritratto quindi qual è il senso che c'è alla base del ritratto la luce poi vedremo che andrà a entrare entrerà in gioco in maniera preponderante proprio quando ho definito tutto e devo andare a illuminare in un certo modo la mia la mia scena il mio soggetto quindi il punto di partenza è sempre quello di capire che cosa vogliamo del nostro progetto ecco perché ripeto durante i corsi ho affiancato anche quello di comunicazione visiva e gestione della posa e la PNL per esempio quando si parla col soggetto sul set non c'è solo fai questo fai quello mettiti così o mettiti con la bisogna interagire in un certo modo col soggetto attraverso una serie di tecniche se così vogliamo dire che riguardano la PNL la prossemica e la cinesica che sono delle discipline che ci permettono di comunicare in un certo modo con quella persona per entrare subito in sintonia e costruire il cosiddetto rapport che se vogliamo dire chiamiamolo in maniera banale rapporto di fiducia ma dove da lì in poi andiamo poi a creare delle cose efficaci che creano quello stato d'animo che noi vogliamo esprimere con la nostra fotografia o nel ritratto dove andiamo a cogliere un po' quelle che sono le caratteristiche essenziali della persona che stiamo fotografando per dare un nostro imprinting al ritratto e poi parlando di ritratto vorrei partire da Ugo Mulas Ugo Mulas che è un grande ritrattista italiano e che ha un certo approccio al ritratto quindi vorrei introdurre il discorso di più ampio raggio della progettualità per poi andare a parlare di vi condivido adesso delle slide intanto mi spiace per chi è in attesa ma non spero che non mi fa entrare allora vado a condividere ok spero che si vedano delle slide allora state vedendo c'è la mia faccia datemi un cenno Maurizio vedo ecco ok perfetto allora io purtroppo non riesco a vedervi tutti quindi eventualmente se volete intervenire naturalmente aprile il microfono e chiedete pure io sulla mia schermata riesco a vedervi diciamo in maniera caotica in base a chi si connette ma non riesco a vedere tutti con il durante allora andiamo a vedere innanzitutto perché parlare di un ritrattista no? che in questo momento non è proprio legato all'illuminazione però guardate un attimo queste slide e vedrete qual è il significato più profondo che ha la virtualità anche in illuminazione adesso lo trovo eccolo qua allora Hugo Mulas fu incaricato di fare le foto a dei grandi artisti tra cui Hugh Champ ok lui andò in America e non conoscendo neanche l'inglese iniziò a fare le foto per ritrarre questi artisti all'opera e questa diciamo questo testo che qui riporto tratta proprio della dell'approccio che lui ha al ritratto e quindi di come ha fatto una sorta di lavoro interiore per cercare di dare un significato profondo e di rappresentare a tutti gli effetti l'opera di quelle persone e ciò che li caratterizza a livello umano e fa sì che poi diciamo lui possa collegare all'opera stessa quindi dei tratti distintivi di quella persona da cui possiamo evincere guardando le foto quali sono le origini della sua arte della sua opera e leggo alcuni tratti di questa parte qua 5 minuti vi rubo proprio per questa cosa che sicuramente magari molti di voi hanno già letto chi non ha letto io lo consiglio vivamente perché è interessante e qui sotto vedete ci sono anche riferimenti naturalmente e leggerò dicevo qualche passo proprio per farvi capire un po' il senso di tutto quello che poi andremo a vedere in seguito a New York nessuno mi aveva mandato mi ero mosso da solo volevo capire ed essere testimone andavo negli studi senza sapere l'inglese pronunciando appena le parole indispensabili cercavo di non occupare posto di non farmi sentire di non intracciare il lavoro che facevano gli artisti quindi si metteva un po' in disparte quando fotografo un pittore spesso cerco una possibilità per uscire fuori da quella che è la foto di cronaca e cerco anche di evitare il normale ritratto il bel ritratto perché quello che mi interessa è dare un'idea del personaggio il rapporto al risultato del suo lavoro cioè di capire quale dei suoi modi di atteggiamenti è decisivo rispetto al risultato finale quindi vedete già qual è un primo approccio una sorta di andare a scandagliare quali sono gli atteggiamenti decisivi rispetto al risultato della loro opera diciamo per alcuni pittori il non fare è più importante del fare certo non è facile rendere questo atteggiamento di apparente passività capire che sotto c'è una complessa carica di energia l'attesa di un evento che in certi casi può anche risolvere in un attimo in un gesto per esempio fotografare Newman mentre dipinge una delle sue tele dove due o tre rette verticali dividono lo spazio non aiuta a capire perché queste non aiuta a capire perché chiunque vedendo il quadro può immaginare come sta è più curioso vedere quanto fosse meticoloso nel preparare lo studio prima di cominciare a dipingere il fatto che mettesse dietro ogni tela delle carte in modo che il muro non si sporcasse di colore lo stesso ordine dello studio è rivelatore di un atteggiamento psicologico di quest'uomo estremamente meticoloso in tutto anche nel testile molto elegante e sempre perfettamente apposto quindi dice guardando il quadro di Newman tutti si immaginano come è fatto è abbastanza semplice sono soltanto delle linee che dividono quest'area ma è molto più interessante andare a vedere qual è l'approccio al quadro e come lui si comporta nella vita reale anche nel modo in cui si si prepara a realizzare questo comunque in questo caso una fotografia è semplicemente un documento che poi gli altri interpretano come vogliono in questo caso mi sento troppo spersonalizzato sicché cerco di capire quello che sta succedendo di capirlo fotograficamente cerco di fare in modo che il documento abbia già una sua chiave di lettura che sia a sua volta un discorso definito quando si guarda una di queste fotografie bisogna anche analizzare il perché è stata fatta in quel mondo non si può capire quello che il pittore fa senza capire quello che il fotografo ha fatto bisogna rendersi conto che il mio punto di vista non è soltanto ottico ma è anche e soprattutto mentale così per Newman contava il suo rapporto con la trella ed entrarvi con la tela ed entrarvi dentro lentamente con un processo di concentrazione che ne determinava misure lo spazio e le partizioni e non vedo come meglio si potesse esprimere da parte mia questa scansione quindi io fotografo come la rappresento questo atteggiamento se non fotografando il particolare della tela dipinta da Newman dove ai margini della linea di colore sta la firma e l'indicazione dell'inizio e della fine del lavoro cioè la data d'avvio e quella della conclusione le stesse fotografie di Duchamp vorrebbero essere qualcosa di più di una serie di ritratti più o meno riusciti sono anzi il tentativo di rendere visivamente l'atteggiamento mentale di Duchamp rispetto alla propria opera atteggiamento che si concretizzò in anni di silenzio in un rifiuto per fare che è un modo nuovo di fare di continuare un discorso ecco lui fotografa Duchamp e dice come faccio a rappresentare il suo non fare che poi è quello che è alla base delle sue opere questo silenzio in cui lui trova l'ispirazione delle sue opere ho quasi finito quando si fa il ritratto una persona si può assumere un'infinità di atteggiamenti verso il fotografo non c'è il ritratto di un ritratto di quello dove la persona si mette lì in posa consapevole della macchina cioè verso il fotografo come per ingarnarli dire io sono qui ma fingo di non sapere che poi ci siete così la mia attenzione sarà più credibile invece il fotografare mentre fa qualche cosa cioè fare il backstage per capirci dell'opera di un artista che sta dipingendo dicevo invece fotografare uno mentre fa qualche cosa è registrare un fatto quindi fare della cronaca il ritratto in un certo senso è qualcosa di più nobile rispetto alla fotografia di cronaca perché non ci sia nessuna pericenza purché non ci sia nessuna decenza nessuna finzione verso l'operazione nel suo insieme che deve essere la più scoperta la più diretta possibile però anche posare è un fare in un certo senso sì che se fotografavo di usciampi in posa arrivavo a un circolo vizioso comunque posare era l'atteggiamento più vicino al non fare perché qualsiasi altra cosa di usciampi avesse fatto sarebbe stato qualcosa in più e qualcosa di troppo i risultati i ritratti in casa o al museo non mi bastavano l'ho voluto riprendere mentre camminava perché mi sembrava che il camminare sia l'atteggiamento del vivere più elementare e fotograficamente più significativo un fare sganciato dal produrre l'atteggiamento più evidente del vivere e basta e quindi ecco dove ero a fotografare così ci sono alcune foto di usciampi che si che cammina da casa sua a Washington Square però poi abbiamo trovato ma lui lo sapeva su certi tavolini di cemento di pietra dagli alberi di Washington Square dove c'era il disegno di una scacchiera avevo già fatto delle foto a usciampi mentre giocava a scacchi che però ho scartato perché troppo discorsive mentre ho scelto queste fotografie di usciampi all'aperto seduto al tavolino con la scacchiera senza gli scacchi anzi usciampi non guarda nemmeno la scacchiera con aria da spavaldo con gli occhi socchiusi perché gli batteva il sole direttamente in faccia poi ci sono delle foto fatte in casa sono i ritratti di cui parlavo prima con questo cercato di portarlo ad assumere degli atteggiamenti rivelatori del non fare qui arriviamo al dunque di quel silenzio che già in quegli anni tanto pesava sull'opera dei quei giovani artisti e che oggi sembra pesare sempre più sul loro comportamento allora insistere su di usciampi che guarda le cose sue o di altri ormai così lontane del tempo di usciampi dice che si può vedere e non si può sentir sentire è un po' come mettere l'accento sulla sua rinuncia ecco di usciampi seduto in quella poltrona famosa con quel sigaro prendemente in mano che guarda una vecchia fotografia di marseille di usciampi che gioca a scacchi con una donna nuda ed ecco ancora di usciampi nel suo soggiorno a new york seduto su una scultura di brancusi qui di usciampi non fa assolutamente nulla è preso un po' di spalle mentre il viso è quasi di profilo all'atteggiamento di uno che guarda altrove infine siamo andati al modern art museum e qui fu emozionante fotografarlo tra le sue opere di una cinquantina di anni prima mentre le guardava come se non gli appartenessero farlo posare con le spalle poggiate al muro opera d'arte lui stesso vivo tra le sue vecchie cose ecco quindi torno un attimo interrompo un attimo qui la condivisione quindi per farvi capire in poche parole l'essenza del progetto quanta riflessione c'è dietro un ritratto dice io non posso da fotografo scattare delle foto tanto per fare delle foto o estetiche il classico bel ritratto dove la persona si riconosce sotto il profilo del suo lato migliore quando si dice uno è fotogenico oppure sono in grado di mettere in posa qualcuno che pensa di non essere fotogenico ma io trovo il modo di farlo ecco io lo faccio spesso quando faccio glemuro fotografie pubblicitarie ma quelle diciamo che sono foto che sono fine a se stesse appunto ritratti estetici ma il senso del ritratto e qui poi entra in gioco anche l'illuminazione quindi non è vado fuori tema è proprio quello di caratterizzare no? un soggetto cioè rendere evidente qualcosa allora spesso sento dire che il ritratto è come qual è la filosofia del ritratto dice rubare un attimo immortalare un attimo rubato oppure cogliere l'essenza del soggetto attraverso un'interazione con lo stesso allora io direi che tutti e due sono concetti fuorvianti il primo perché non è un ritratto cioè quando parliamo di ritratto rubato non stiamo parlando di ritratto parliamo di reportage parliamo di di catturare un'espressione di un viso che in quel momento per qualsiasi ragione magari è felice piuttosto che scontento o malinconico quindi rubare un ritratto senza la consapevolezza del soggetto che lo stiamo fotografando significa non fare un ritratto il ritratto come facevano i pittori quando uno si metteva lì davanti è un passo a due in un certo senso quindi è un qualcosa che è il risultato dell'opera non solo del soggetto che viene ritratto dove il fotografo deve solo raccontarlo ma è proprio una chiave di lettura che viene data a quel ritratto attraverso l'interazione attiva del fotografo quindi è un binomio inscendibile e quindi il requisito qual è? La consapevolezza del soggetto e lo sguardo spesso è in camera anche se non è un requisito essenziale ma è sicuramente qualcosa che rafforza ancora di più questo volere entrare dentro quella persona in un certo senso e raccontarla attraverso una mia chiave di lettura mia intendo come operatore come fotografo quindi il ritratto quando ci approcciamo a qualsiasi ritratto alla base ci deve essere una progettualità un lavoro di di ricerca nel saper cogliere gli elementi essenziali come diceva appunto Mulas che vanno a identificare ciò che porta quella persona quel soggetto a rendere in qualche modo evidente la sua opera il suo operato nel caso di pittori artisti è ovvio quale questo sia nel caso di persone comuni magari di riuscire a a caratterizzare gli elementi chiave da cui si evince la sua personalità o no il suo lato diciamo più intimo per esempio quindi qualsiasi approccio che ho al ritratto devo creare e questo lo consiglio a tutti in generale di creare un progetto fotografico per dire più in là adesso partirà fra un mese circa il corso sulla fotografia di moda la fotografia di moda non è semplicemente fotografare belle ragazze e begli abiti ma è creare una storia perché l'editoriale moda nasce proprio dalla costruzione editoriale cioè da un racconto fotografico in 5-6 scatti che hanno un filo conduttore e un'atmosfera del cosiddetto mood e quindi a monte c'è questo lavoro di progettazione per stare all'interno di queste linee guida che il fotografo si dà insieme all'art director piuttosto al fashion editor quindi delle figure professionali che in qualche modo indirizzano la comunicazione e indirizzano anche poi il cosiddetto mood che deriva dal mood board quindi è un metodo di lavoro dal quale attraverso una serie di fasi si va a progettare e costruire questa storia che abbia un senso assolutamente forte che può essere quello di che sta alla base del cosiddetto concept brand quindi dell'animus del brand pubblicitario che promuove la campagna oppure quella del concetto legato al nuovo prodotto che viene introdotto quindi con una pubblicità che tende ad essere innanzitutto indiretta quindi molto pelata perché deve conquistare l'osservatore soprattutto per la storia non per un modo diretto di promuovere il prodotto che si intravede quasi a volte e quindi va strutturato chiaramente una sorta di sceneggiatura il cosiddetto storyboard insomma varie fasi del progetto che portano alla realizzazione appunto degli scatti finali quando si fa un lavoro di questo tipo anche nel ritratto in maniera più piccola si va a progettare una serie di cose tra cui assolutamente l'illuminazione e adesso arriviamo un po' al dunque l'illuminazione non è solo illuminare bene una scena vi faccio adesso degli esempi banali avete presente il film la serie di anzi CSI Miami rispetto a RIS ecco adesso senza metterli a confronto qualitativamente diciamo che quando vedete un film italiano tipo RIS eccetera dove c'è un certo tipo di illuminazione abbastanza omogenea vedete che l'atmosfera non non viene diciamo strutturata in una maniera molto suggestiva sono più dei fatti che accadono se vedete invece CSI non so se avete fatto avete mai visto vedete delle luci assolutamente molto evocative giochi di colori atmosfere per esempio scene dove CSI naturalmente lo ricordo riguarda la polizia scientifica dove si va a analizzare la scena del crimine piuttosto che in laboratorio si fanno gli esami in laboratorio con delle atmosfere assolutamente suggestive che suggestionano appunto chi osserva e li portano anche emotivamente un po' dentro ecco allo stesso modo in fotografia devo creare una suggestione questa suggestione è legata prima di tutto al concetto che esprimo perché la fotografia non ce la dimentichiamo è un linguaggio attraverso il quale io devo esprimere un concetto o dei concetti a livello fotografico a livello bidimensionale dove devo però non solo far passare un messaggio che è dato dalla composizione dal rapporto soggetto sfondo che sono gli elementi fondamentali un po' della comunicazione visiva ma dove c'è anche un'atmosfera tale da rafforzare in maniera coerente questa parola è importante la scena che sto fotografando quindi quando io faccio una scena sia all'esterno che in un contesto indoor o ovunque in generale non vado mai a mettere della luce solo per il mio gusto o per illuminare bene un soggetto per descriverlo o raccontarlo a volte addirittura si lavora in sottrazione andando a creare delle atmosfere totalmente evocative dove solo alcuni elementi vengono diciamo accentuati da piccoli spot di luce da piccole linee di luce che li evidenziano nell'oscurità per esempio ho preso adesso qualche per esempio qualche frame ho usato i trailer così non abbiamo problemi di nessun tipo di alcuni film di Guillermo del Toro adesso vi faccio vedere qualche slide per farvi per introdurvi un pochino il discorso poi degli schemi di illuminazione allora vado a condividere queste le trovate anche lo lasciate nell'area riservata del mio sito quindi che è scritto la mail list naturalmente può anche accedere poi a fine puntata dirò tutto naturalmente intanto vediamo se riesco a far entrare qualcuno ok allora beh arriviamo a centro e poi si blocca benissimo allora dicevo come vedete qua ho messo dei riferimenti di alcuni film e adesso vi faccio vedere diciamo qualche slide in dettaglio e cercherò di spiegarvi un pochino anche quello che si fa in direzione della fotografia perché poi la direzione della fotografia nel video non è nient'altro che la struttura della luce degli schemi di illuminazione all'interno delle varie scene del film allora ragazzi un'attenzione all'audio mi raccomando perché si sentono ancora qualcuno ecco ok perfetto qualcuno non l'ha disattivato e dopo si crea confusione allora il primo film che vi faccio vedere qualche scena è madre non so se l'avete visto sono tutti tendenzialmente un soft horror diciamo però questo per allora guardate i singoli frame ok allora per esempio quando abbiamo scene tipo queste l'ho fatta vedere anche su una lezione analizzando alcune scene di Psaigo abbiamo il cosiddetto schema incontroluce molto confuso spesso con lo schema luce silhouette dove invece c'è una linea di luce che delinea i contorni del soggetto questo schema di illuminazione prevede la totale oscurità della parte diciamo dell'incarnato del corpo del soggetto rappresentato per far parlare l'elemento essenziale l'elemento essenziale nella comunicazione visiva e nella fotografia è la cosiddetta silhouette che è la linea base la linea che ci racconta già di per sé in maniera minimale sottraendo tutti gli altri elementi un qualcosa una storia una postura riflessiva di un soggetto magari in controluce che si sta in qualche modo che sta riflettendo poggia la mano così noi già associamo in maniera molto rapida quella azione a qualcosa che a noi conosciamo paradossalmente questo tipo di schemi luce la silhouette e il controluce qui vedete un controluce cioè dove si vede uno sfondo illuminato che può essere uno sfondo come in questo caso l'esterno di una porta piuttosto che un fondale bianco di uno studio il soggetto totalmente in ombra poi vi farò vedere qualche esempio fotografico anche sui miei server quando abbiamo uno schema come questo vediamo che l'elemento base che è la linea che è una bambina che cammina verso l'esterno con un'atmosfera chiaramente abbastanza cupa direi ci fa percepire immediatamente il senso di quello che stiamo vedendo e ce lo fa però elaborare perché sono molti efficaci questi schemi luce nell'osservatore perché non raccontano non descrivono suggestionano lasciando evocare lasciando quindi il completamento della scena all'immaginario dell'osservatore ma questa stilizzazione questa bidimensionalità in realtà ha un potere di risonanza nella memoria si dice molti studiosi hanno accertato questo e questo è un po' il potere della fotografia rispetto al video una singola immagine in qualche modo ha la capacità di imprimersi nella memoria anche solo per pochi secondi ma di rimanere impressa e di farci riflettere in qualche modo di farci elaborare qualcosa ecco quando non so se vi ricordate qui per chi è giovane magari farà fatica però per chi è all'età mia la linea della D'Agostina non so se vi ricordate la pubblicità dove c'era questa linea che raccontava delle storie senza addirittura un audio comprensibile quindi c'era questo personaggio che si animava da una linea bidimensionale e attraverso la gestualità attraverso degli oggetti che in maniera sempre molto essenziale solo con una linea venivano scontornati comparivano sulla scena venivano in qualche modo a interagire col soggetto e raccontavano una storia ecco immaginate che quello anche se è proprio l'assenza totale di dettaglio è sufficiente per farci subito percepire qualcosa quindi immaginate che quando la luce come in questi schemi luce lavora in sottrazione vado a fare qualcosa di diverso dove invece in altre scene come questa per esempio vado a mettere il fuoco solo su pochi elementi essenziali il contesto quindi lo sfondo una piccola parte dello sfondo evidenziata dalla luce chiaramente l'atmosfera di questo tipo è un'atmosfera che porta naturalmente l'osservatore all'inquietudine una scena terra chiaramente ma l'accento sull'occhio del soggetto e come vedete sembra quasi in metà di un Rembrandt per chi conosce gli schemi luce o ne ha sentito parlare spesso il Rembrandt che è un ritratto dai pratti nostalgici malinconici che prevede metà viso illuminato e l'altra metà in ombra con questo triangolino sull'occhio diciamo in ombra della parte in ombra illuminato però questo va a mettere l'accento proprio sullo sguardo lasciando però tutto il resto del viso nella totale ombra per far chiaramente suggestionare chi guarda e lasciare un po' di inquietudine però va a raccontare nel minimo indispensabile il soggetto che sta facendo questa azione e anche negli oggetti di scena l'illuminazione spesso va a cogliere degli elementi che nel cinema si chiama spesso il fecatello cioè un passaggio di scena dove un oggetto o una scena viene inquadrata per poi fare il passaggio nell'altra anche quando si inquadra un oggetto si conferisce un'atmosfera anche a quell'oggetto lì coerente con la scena che si sta facendo quindi illuminazione in generale serve a conferire un'atmosfera e questo è un po' il primo step su cui si basa tutto quello che riguarda la percezione visiva quindi come la silhouette va a sottrarre l'accento di luce va a marcare solo alcuni elementi poi vediamo invece come il soggetto può essere caratterizzato in vari modi faccio sempre un esempio cinematografico e mi riallaccio sempre al film di Guillermo del Toro e non so se l'avete visto il misteri di Crimson Peak no misteri si chiama solo Crimson Peak che è un film chiaramente thriller diciamo thriller surreale è un fantasy quasi horror però quello al di là della trama del film quello che arriva sicuramente in maniera forte aspettate che ho sbagliato il senso delle slide è proprio l'atmosfera generata dall'uso anche del colore perché chiaramente la luce equivale anche il colore il colore sulla scena spesso viene creato attraverso l'uso delle color gel come in fotografia viene usato per creare atmosfere particolari dove si usano per esempio i colori complementari piuttosto che i colori adiacenti il monocromatico e così via guardate con che capacità il direttore della fotografia è riuscito a creare queste scene questo uso predominante guardate sono pochi i colori che vengono usati su questo film quindi parliamo di un ciano e di un arancio che non sono proprio complementari però diciamo riescono comunque a creare un forte contrasto fra una scena dai toni freddi e una dai toni caldi qui è tutto un gioco basato su questo film non so se l'avete visto specialmente le scene nella casa in un gioco di caldo contro il freddo cioè la vita in relazione poi in realtà qui alla morte che viene in qualche modo celebrata attraverso alcune scene e dove in altre scene invece ci sono degli schemi luce totalmente diversi di carattere più descrittivo e guarda caso spesso ricorre il cosiddetto split uno schema luce che fotograficamente durante il corso ne parlo spesso dello split e faccio tanti esempi in base al genere fotografico vado a contrapporre due lati del soggetto il dividere in due il viso del soggetto può servire per un ritratto estetico ad assottigliare gli elementi a creare un po' di aura di mistero per esempio è stato cerebre ritratto ai membri della band una dei più famosi al mondo dei David Floyd dove c'è un album che tutti e quattro sono vicini divisi in due da una zona in luce a una zona in ombra tutti in split ecco lo split è uno schema luce che mette in relazione il lato più nascosto del soggetto rispetto a quello più evidente che conoscono tutti e ha un senso anche se l'ombra o la luce che divide il soggetto inizia da sinistra a destra nella lettura del fotogramma quindi voi sapete che nel mondo occidentale la scansione visiva e quindi anche quella delle immagini avviene da sinistra verso destra come quando leggiamo il testo ecco anche in fotografia a partire in una lettura sinistra a destra dà naturalmente una percezione differente dello stesso soggetto ripreso se l'illuminazione guida in un certo modo così come la composizione l'occhio attraverso un percorso che inizia e poi va a finire verso destra quindi mettere la parte luce a sinistra e la parte in ombra a destra per capirci del viso di un soggetto già suggestiona in qualche modo l'osservatore e va a caricare la parte terminale dell'immagine di un qualcosa che va verso il buio verso la parte più introspettiva più nascosta di quella persona quindi immaginiamo un ritratto in cui c'è un viso diviso in due è probabile che se il soggetto ha un accenno di sorriso o una cosa del genere più che io metta la parte in ombra a sinistra è quella in luce a destra viceversa sul ritratto più introspettivo faccio arrivare prima la luce e poi l'ombra comunque divido esattamente in due metà viso e corpo del soggetto stesso schema luce nella moda ha un senso per risaltare le texture per esempio dell'abito e i riflessi degli elementi dei gioielli per esempio che sono composti di un materiale che riflette luce in maniera molto più incisiva e nel glamour invece una luce trasversale che divide in due il soggetto viene usato per mettere in risalto le forme della modella con una luce diffusa e trasversale per enfatizzarne appunto il volume quello che rende più tridimensionale l'immagine che noi leggiamo su un piano bidimensionale quindi come vedete in base alla scena che viene in qualche modo narrata nel film questo noi ci siamo già abituali se ci fermiamo sui singoli frame sulle singole immagini troviamo schemi luce come il Rembrandt come in questo caso troviamo schemi luce di taglio dove ognuno di questi ha una progressione nel film e nella sequenza di scene che porta verso questa oscurità verso schemi luce più di taglio silhouette quindi prima si parte da atmosfere descrittive e si arriva a questa linea di controluce con una sorta di leggera luce trasversale con un altro colore qui tutta in monocromatico atmosfera molto calda per arrivare invece ecco qui un altro un altro Rembrandt come potete vedere e poi mano mano che si arriva ecco questo è un controluce con una luce di schiarita si arriva a delle scene diciamo più inquietanti dove si entra in questa casa chiaramente cambia se passiamo da luci di urne che fanno capolino nella casa per schema luce piena come in questo caso questo viso illuminato dal cosiddetto schema luce piena due terzi in alta luce e un terzo un quarto in bassa luce e la famosa doppia M che scontorna i lineamenti del viso il classico ritratto vittorico che siamo abituati a vedere nella storia dell'arte dove c'era il marchese o il barone messo in tre quarti e il pittore scusate che lo ritraeva in questa posizione per raccontare di più del viso che rispetto al ritratto facciale conferisce naturalmente una descrizione più accurata e maggiore dei lineamenti del viso del soggetto oggetti alcune scene poi guardate iniziano questo binomio viene introdotto il ciano quest'altro colore che nelle scene prima non era presente e inizia questo binomio tra blu ciano e arancio questo contrasto anche su piccoli dettagli guardate come inizia se voi fate caso ogni frame è un'inquadratura è una foto e c'è uno schema luce se fate caso c'è un rapporto di illuminazione che nel ritratto è dato dalla differenza di luminosità che adesso lo esprimo così ma poi quando ne parlo lo esprimo attraverso questo oggetto qua che è l'esposimero si misura si quantifica perché si pensa prima alla foto e poi si realizza e quindi ce l'abbiamo già in testa la foto in realtà e quando facciamo lo schema luce già la immaginiamo e mettiamo della luce sul set in modo che al primo scatto già esce la nostra immagine però al di là dell'approccio parlando di risultato questo è uno schema luce che ha per esempio un elevato scarto di brillanza quindi una differenza fra alta luce bassa luce sul viso che conferisce una carica emotiva ancora più forte allo schema luce che sto utilizzando in questo caso una sorta di luce di taglio che si va quasi a chiudere con un Rembrandt e poi arriviamo a scena come questa dove la luce trasversale in uno split anche in questo caso lascia però qual è la differenza rispetto agli schemi luce di prima lascia una zona del viso totalmente in ombra qui andiamo a tecnicamente parlando a 6 stop di differenza 6-7 stop cioè questa parte del viso è al di sotto come luminosità parlando dell'unità base della luce che in fotografia è lo stop di esattamente 5-6-7 stop che lasciano il minimo della leggibilità o addirittura l'assenza di leggibilità nell'altra parte questo come vedete tradotto in termini spiccioli ha un effetto molto più suggestivo molto più introspettivo e duro rispetto all'altro schema luce dove c'era la leggibilità dell'ombra quindi la scelta che si fa alla base quando si crea uno schema di illuminazione non è solo quella che faccio questo schema luce perché evoco questa atmosfera ad esempio il Rembrandt per fare una romantica oppure la luce dal basso per creare un'atmosfera di suspense e di inquietudine allora quando io cerco lo schema luce poi devo anche stabilire il rapporto con lo sfondo quindi le luci di background le luci di effetto sui capelli eventualmente sulla silhouette quindi le cosiddette rim last e poi le cosiddette luci di riempimento scusate che c'è Luisa al telefono che forse non riesce ad entrare Luisa scusa ma siamo al numero pieno siamo più di 100 quindi molte persone sono ok ok sì infatti la condivideremo poi semmai sul canale così ok ciao grazie grazie ok vi saluto a Luisa che è appunto responsabile dell'Adams che stasera voleva collegarsi ma non riesce ad entrare perché siamo l'ho allora sono 95 persone collegate Francesco io ne vedo no no ne conto 99 anche perché ecco provo a fare entrare ma non poi non entro allora tornando tornando con noi aspettate che ecco non passo le slide ecco guardate come ad una luce sul soggetto calda viene contrapposto qua allo sfondo freddo è un gioco non solo di colori ma anche una suggestione specifica che in questo caso il direttore della fotografia ha voluto dare quindi lavorare con la luce di candela che ha una gradazione Kelvin sotto i 2800 gradi Kelvin per capirci ecco quando si parla di colore il bilanciamento del bianco spesso sento dire ma facendo la luce come devo bilanciare il bianco ma in automatico il bilanciamento del bianco normalmente viene fatto esclusivamente con i gradi Kelvin in camera in modo tale da poter poi stabilire quali sono le dominanti colori che io voglio mettere sulla scena attraverso le gelatine colorate come vedete la luce che mi sta dipingendo il viso in questo momento è gelatinata con un ciano ma io ecco il mio bilanciamento del bianco è fisso anche sulla webcam che mi sta riprendendo in modo che se io cambio la gelatina colore cambia anche naturalmente il colore in maniera immediata se avessi lasciato l'automatico avrebbe falsato tutti i colori dello sfondo e della scena quindi quando si parla di illuminazione naturalmente si parla anche di tutte quelle che sono le cose fondamentali da fare tra cui poi vedremo anche il sistema zonale l'esposizione perché la luce è strettamente legata all'esposizione e non c'è metodo migliore per spiegare l'esposizione in fotografia al contrario di quanto siamo molti abituati a pensare il sistema zonale è quello da cui partono tutti i consigli professionali sull'esposizione e quindi è proprio la base sta appena sopra la sensitometria che è la scienza che appunto studiava il potere di riflessione e di assorbimento della luce del materiale fotosensibile quindi della pellicola che viene traslata poi oggi nel digitale a pieno titolo anche se parte dal paesaggio perché Adams era un paesaggista ma il sistema zonale è tuttora il metodo che ci permette di capire in maniera efficace immediata la luce poi vedremo quali sono i vantaggi nel riuscire a capire queste cose quindi vado avanti velocemente adesso giusto per farvi vedere ecco qual è che significa illuminare non con una luce che illumina bene per far vedere ma per evocare per suggestionare piccoli spot per lasciare la predominanza di ombra sulla scena in alcuni casi contro luce con una luce di dettaglio solo in alcuni punti per esempio il viso schiarito ma tutto sempre su toni freddi e una linea di silhouette leggera in controluce piuttosto vedete anche in scene diurne che normalmente hanno una luce piatta qui questo lo faccio anche io spesso sui set fotografici cioè se c'è il cielo nuvoloso ne approfitto perché ho una luce diffusa di schiarita di base e poi vado a caratterizzare con piccole luci che simulano un sole fra le nuvole al tramonto per dire un cielo velato ma che caratterizzano poi il soggetto che staccano con delle piccole linee anche se delicate in questo caso il soggetto dalla classica foto piatta e dalle classiche dominanti che spesso l'ambiente restituisce di base quindi con il flash vado non a snaturare la foto ma vado a caratterizzarla e quindi arriviamo ecco a atmosfere come vedete come accennavo prima ben definite oppure per esempio al monocromatico in una scena dove ci sono molte luci di effetto come sulla siluetta dei soggetti che guardate vengono raccontati simulando la luce che passa da queste finestre attraverso queste linee di luce che sono le cosiddette rim light le luci d'accendo qui vabbè andiamo sul vivo del film ok e poi naturalmente torniamo in alcune scene allo schema luce piena ma come vedete ogni schema luce anche nelle scene eroti dove c'è un lato lui era molto amorevole verso questa donna poi in realtà si rivela tutt'altro c'è il lato oscuro che viene sempre marcato dalla zona in ombra del viso e insomma potrei fare mille esempi con altrettanti film no? ma questa non so se vi ricordate Psycho quando lui guarda attraverso la fessura e osserva la ragazza ecco se vi ricordate quella scena dove lui è totalmente in ombra in silhouette si vede solo l'occhio illuminato ecco questo è un must della cinematografia dell'illuminazione nel cinema fino ad arrivare a scene invece molto piatte dove la differenza la fa il colore il cosiddetto tocco di colore che in fotografia viene usato spesso proprio per staccare con un singolo elemento e concentrare l'attenzione su quello quando c'è una luce piatta di fondo quindi potrei usare anche una luce assolutamente descrittiva come lo schema luce diffusa per poi lavorare su altri elementi della comunicazione quindi in poche parole la luce si va ad interpolare a tutti gli altri elementi che fanno parte della comunicazione visiva e della composizione per suggestionare gli osservatori in maniera decisiva adesso vi faccio vedere sempre tornando alle slide alcuni esempi stasera naturalmente è più una chiacchierata poi nel tecnico chiaramente non abbiamo il tempo per entrarci più di tanto ovviamente però ecco innanzitutto vi prendo una slide che riguarda lo schema luce silhouette e il controluce quelli che vi ho citato prima ve li faccio vedere anche qui su una foto fatta in studio ecco come vedete questo è il famoso elemento essenziale avete presente le figure che rappresentano i giochi olimpici tanto per essere chiari la stilizzazione della figura l'omino che scia rappresentato con poche linee essenziali ecco quando le icone o i segni cosiddetti minimi servono per far arrivare immediatamente un messaggio nella memoria richiamare alla memoria una scena all'osservatore dell'immagine senza troppi fronzoli perché è scientificamente provato che meno elementi ho più magari non riesco a contestualizzare quella scena o a fare dei processi di elaborazione significativi rispetto a ciò che realmente io magari voglio rappresentare come fotografo o come grafico ma vado immediatamente ad associare alla mia memoria quella quell'iconografia a qualcosa che io personalmente riconosco in maniera immediata quindi in poche parole vado molto più rapido ad attingere al cassetto della memoria di una persona per poi lasciargli elaborare qualcosa questo è l'efficacia per esempio di questi schemi luce che puntano molto su in questo caso è una scena con atteggiamenti un po' quasi seduttivi e scenografici è tratto da un set di glamour ma come vedete in un caso vado a con la linea essenziale con lo schema di controluce a raccontare un soggetto si capisce subito che è una ragazza dalle labbra dal viso in un atteggiamento sensuale e vado a lavorare su delle forme geometriche per creare anche una sorta di dinamica nell'osservazione quindi entra in gioco la composizione in maniera molto basica con il corpo rispetto allo sfondo nell'altra parte invece vado con la linea e con una luce più permeante nel volto e nel corpo a raccontare anche i tratti della figura per suggestionare di più in maniera quasi sensuale e glamour glamour significa fascino quindi il genere glamour nella fotografia parte proprio domani in workshop di quattro serate proprio sul glamour è una fotografia che non necessariamente ci deve essere il nudo la modella seminuda piuttosto che vestita quello è quasi accidentale cioè è quasi coerente con la scena che sto rappresentando ma non è l'essenza del glamour il glamour significa fascino deriva da una parola francese che è glamour che è appunto fascino fascinazione è nell'atteggiamento seduttivo verso l'osservatore quindi quando io voglio in qualche modo evocare degli elementi di seduzione che vanno oltre la linea essenziale marco con la luce solo dei tratti vedete qui il decoltè piuttosto che le gambe dove vado a raccontare anche il tipo di abbigliamento la mano i dettagli delle labbra e così via i capelli per dire quindi è una luce che si staglia su un fondo nero e è solo la linea che racconta il soggetto adesso ho fatto l'esempio di questo schema luce ma durante il corso chiaramente poi si spiega la tecnica come viene fatto e tutta un'altra serie di esempi di schemi luce analoghi ce ne sono tantissimi adesso non entro in dettaglio però per dire rispetto a uno schema luce descrittivo come il butterfly fatto per una foto di moda oppure rispetto allo split fatto per il ritratto questo è Walter Ricciardi che l'ho fotografato all'istituto superiore di sanità adesso è l'attuale consigliere del ministro Speranza e qui l'ho ritratto come uno split in realtà gli ho fatto delle foto istituzionali per un evento importante fatto giù all'istituto superiore dove ho fotografato si chiamava Scienza senza frontiere lui e una serie di altri ragazzi che venivano dai centri di accoglienza ma quando ho fatto questo ritratto l'ho fatto in base a ciò che io quel giorno ho appreso di lui cioè lui in realtà ci aveva un passato anche come attore addirittura e quindi quando gli ho fatto il mio ritratto l'ho fatto in split per lasciare in ombra quasi la parte più oscura nella parte finale dell'immagine quella che pochi conoscono e l'ho lasciato con un sorriso rispetto all'atteggiamento diciamo più serioso tra virgolette e classico da ritratto istituzionale che gli ho fatto invece poco prima che andava con destinazioni giornali e stampa quindi il mio ritratto di lui anche se in maniera diciamo essenziale perché io ho avuto due minuti per fare il set mettere le luci fotografarlo quindi andavamo veramente ricorsa non è che c'avevo una giornata per fare il ritratto a lui abbiamo fatto tutto in venti minuti ho fotografato venticinque persone compreso il set l'allestimento del set dentro l'istituto quindi potrei immaginare che con quel poco tempo ho cercato di rappresentare un qualcosa che per me fosse significativo per lui e l'ho rappresentato attraverso semplicemente attraverso la luce quindi quando non ci sono altri elementi la luce in qualche modo va a definire a delineare va a creare una suggestione un segno stilistico del fotografico parlando di luce dicevo la parte tecnica della luce di cui farò un accenno naturalmente si basa su dei principi cardine e quindi sul ruolo delle luci naturalmente che sono queste quattro che adesso andremo a vedere le luci sul set possono essere anche un milione va bene oppure una sola ma i ruoli delle luci sono sempre quelli e quando si crea un schema luce bisogna attenersi a delle regole fondamentali e questo riguarda i matrimoni riguarda i ritratti riguarda ogni luce che io ho sia naturale che artificiale o artificiale naturale insieme quindi anche quando uso il sole non posso mettere il soggetto lì a caso e schiarire col flash come capita bisogna saper gestire anche quell'illuminazione là quindi l'importante è capire quali sono i ruoli delle luci nel caso del set in esterna la key light la luce principale quella che caratterizza il ritratto è il sole stesso e la fill light è la luce che lo stesso riflette sull'ambiente per dire di base dove poi io posso andare a mettere pannelli flash per addirittura renderla più naturale all'occhio umano rispetto a ciò che la fotocamera registra questo per dire faccio un esempio sono stato invitato da Ivana Porta Ivana Porta la conoscerete è un master Nikon come me e parla della luce naturale ma mi ha invitato a fare un workshop da lei con i suoi allievi proprio perché per fargli vedere come in realtà non è che esiste solo la luce naturale e gli ha fatto vedere i miei schemi di luce insomma varie situazioni indoor e outdoor ma gli ha fatto vedere anche come a volte il flash rende più naturale più simile a quella che noi vediamo con l'occhio una foto che normalmente viene in qualche modo metabolizzata e alterata dalla fotocamera perché la fotocamera rispetto all'occhio registra diversamente i contrasti della scena legge diversamente le zone della scena che noi di luminosità della scena quindi noi vediamo grazie alla luce riflessa quindi la fotocamera ha una certa capacità di registrare queste zone di luminosità tipo l'alta montagna il ghiacciaio in alta luce sotto luce solare e la caverna in bassa luce dove c'è un orso va bene che in quel momento sta lì che fa capolino e che sta in una zona d'ombra sotto un bosco in una caverna quindi due scene estreme in un'unica immagine il nostro occhio riesce a vederle perché ha una cosiddetta gamma dinamica una riduzione di posa che è più di 20 stop perché parlo di stop perché visivamente io percepisco della luce riflessa e sulla scena questa luce si può misurare l'esposimetro che può essere esterno come questo oppure interno una fotocamera è lo strumento che ci permette di misurare la luce l'esposimetro normalmente chi non conosce l'esposizione usa la fotocamera in automatico mette l'esposimetro in modalità misurazione matrix piuttosto che media centrale vede che la sticella aspettate ve la faccio vedere si avvicina allo zero vede aspettate il mirror adesso lo dovreste vedere ecco immaginate che c'è lì questa sticella qui che vi dice questa di qua che vi dice sì ok stai esponendo correttamente stai sottoesponendo allineati quella in realtà non è niente altro che un automatismo una serie di puntini che rilevano una media delle luci ma quella non è un'esposizione consapevole il fotografo non ricorre mai a un'esposizione matrix per allineare buttiamola lì un'esposizione il fotografo specialmente l'idrattista o il fotografo de moda pubblicitario insomma quelli che fanno il mio lavoro devono calcolare in maniera precisa ogni singola luce della scena non lasciarle a caso incasellarle in una scala tonale che poi darà un risponso anche sotto il profilo cromatico quindi a una traduzione dei valori cromatici e tonali della scena in delle zone di riferimento per avere una certa legibilità luminosità sovraesposizione controllata di alcuni punti della scena quindi io devo saperle misurare e quantificare nella scena che vi ho detto prima ci sono 13 stop di differenza ogni stop sapete che la luce in fotografia a ogni passo di stop raddoppia 6 di mezzo quindi se io ho una lettura esposimetrica appunto il mio esposimetro verso la parte in Nevada e c'ho un F32 cioè la fotocamera l'esposimetro mi dice dovresti chiudere il diaframma ISO 100 125 secondi a F32 in base alla luce che ho rilevato per avere la corretta leggibilità della texture del ghiacciaio questo significa che non devo esporre a F32 significa che in quel momento quella luce che rilevo lì mi dice quanta è e come la traduce in termini di diaframmi cioè se io chiudo il diaframma F32 trasformo quella zona in un grigio meglio 18% questo è proprio il punto da cui parte tutta l'esposizione perché l'esposizione corretta non esiste in realtà della scena esiste una esposizione in base alla luce incidente che ti dice qual è l'esposizione che ti rappresenta un po' i toni della scena così per come li percepisce l'occhio ma la corretta esposizione e parlo di questo proprio perché è la base della luce perché va proprio a braccetto con l'illuminotecnica la base dell'esposizione è proprio la misurazione di un qualcosa che viene trasformato in un grigio medio cioè è un assunto devo sapere che se io punto sulla neve l'esposimetro e scatto in base a quel valore trasformo la neve in un grigio medio se punto l'esposimetro sulla pesce nera ok su una parete nera completamente dipinta non so di nero per qualsiasi ragione trasformo quel nero se io mi allineo se io mi allineo allo zero sulla fotocamera in un grigio medio per leggere al meglio la testa perché l'esposimetro dice io non so se quello è nero o bianco io vedo una luce e se tu vuoi leggere ciò che c'è sulla trama di quella materia che io sto in questo momento misurando devi allinearti con lo scatto a questi valori per metterla in un grigio medio ma perché il grigio medio perché il valore intermedio fa la massima bruciatura nei bianchi e la massima diciamo illegibilità nelle basse luci nei neri quindi in poche parole è esattamente il tono che c'è nel mezzo fra il bianco e il nero quindi anche se è colorato chiaramente ha una cromia di fondo c'è comunque un grigio medio quando io mi allineo fotograficamente una zona che sto misurando e vado a leggere al meglio la trama esempio quando facciamo un ritratto in esterna non vado mai a misurare la luce sulla pelle del soggetto adesso vi faccio qualche esempio questi sono dei file raw adesso ne prendo uno a caso queste sono foto che non ho elaborato in post produzione quindi sono così come le vedete se le vedete in bianco e nero è perché io in camera l'ho scattata direttamente in bianco e nero la foto e ho impostato e ho importato naturalmente il file raw in modo tale che già nella fase di sviluppo automatica del software me la fa esattamente così come io l'ho concepita in fase di scatto quindi c'è un file xml che me la fa vedere in bianco e nero o con un profilo colore che io ho selezionato ecco faccio un esempio in questa foto io non è che misuro la luce della scena e poi vado a mettere l'esposimetro allo zero ok il metodo di lavoro che spiego proprio nei miei corsi il mio è un po' particolare come metodo perché presuppone che conoscendo benissimo l'esposizione posso mettere la luce sulla scena in maniera immediata con una o due misurazioni massiche in maniera molto rapida e fare il click e tirare fuori già la foto questo non perché sono un mago perché ho preso un sistema che è quello di Adams più le conoscenze di luminotecniche le ho intrecciate ecco qual è il segreto del mio sistema è un sistema che non tutti i fotografi conoscono quindi anche fotografi professionisti non ha detto che usano questo metodo e spesso vanno un pochino più intuito ma questo metodo ti consente di andare molto più rapido e anche su un set di lavoro ti puoi ritagliare il tempo per fare il tuo progetto o ti permette di consegnare un matrimonio in sette giorni perché non devi ritoccare le foto poi se fate caso adesso ve le faccio vedere le foto che vedere sono tutti in F vedete quindi non li ho toccate in nessun modo sono foto che al di là eventuali ritocchi estetici possibili che posso che posso fare su un abito che dipende dalla finalità dello scatto di base sono già sotto il profilo della luce esposti e sotto il profilo della color già bilanciati adesso posso fare vari esempi non ho messo qua giusto per far vedere e parlare di vari generi in questo caso per esempio ho usato il flash incontroluce per rendere l'incarnato più pulito dai dominanti verdi d'ambiente era il caso di cui parlavo prima quindi la fotocamera avendo una gamma dinamica inferiore all'occhio e anche una non capacità di compensare le dominanti colore cioè in realtà è la fotocamera che le registra così per come sono è capitato mai di fotografare una parete gialla con l'occhio la vedete un giallo chiaro e la fotocamera ve la fa un giallo scuro al di là che avete esposto diciamo più o meno in linea con quello che percepite questo perché l'occhio umano ha dei fotoricettori che compensano con il colore complementare il colore dominante che va a in qualche modo illuminare l'occhio quindi immaginate che se vedere per esempio guarda potete fare un gioco se prendete un foglio di carta colorato e guardate il foglio di carta no? per mezz'ora vedete che se lo togliete vi rimane stampata la sagoma del foglio con il colore complementare sull'occhio la fotocamera questo non lo fa è veritiera in realtà sotto certi punti di vista ma dall'altra parte aumenta la percezione dei contrasti della scena proprio perché ha una gamma dinamica inferiore e quindi la gamma di contrasto diminuisce quindi se avete fatto caso col cellulare avete mai inquadrato un paesaggio o esponete per il cielo con l'esposizione automatica e sotto le montagne diventano tutte nere o viceversa l'orientate in basso quello regola l'esposizione sulle basse luci in maniera automatica chiaramente vedete lo sfondo del panorama il cielo che al tramonto diventa tutto bianco si cancella quasi questo perché ha una limitata gamma dinamica e quindi quando vado a sovresporre il cielo come prima nell'esempio di prima lo vado a bruciare lo porto in bruciatura per leggere le basse ecco quella mancata capacità di rappresentare che poi non è vera ragazzi perché oggi abbiamo a disposizione le nostre fotocamere anche il modello più diciamo entry level ben 10 stop di gamma dinamica quindi qualsiasi paesaggio noi abbiamo davanti siamo in grado mediamente di rappresentarlo sia nella massima alta luce l'orso volare sul ghiacciaio di prima e l'orso bruno contemporaneamente sulla stessa scena in ombra nel bosco senza fare artefatti o sovrapposizioni la fotocamera magari ci dice che è bruciata che è capitato mai di scattare la fotocamera stai bugando i bianchi in realtà non state bugando niente né guardate l'istogramma spesso ho sentito parlare l'istogramma qui mi dice che l'istogramma non serve a niente ragazzi è una distribuzione c'è chi ci fa i corsi ma è assurdo l'istogramma non serve a rappresentare i toni la distribuzione della texture sulle varie diciamo parti della curva caratteristica della pellicola o del sensore dove ho acquisito nella mia immagine determinate informazioni in bassa media alta luce questo istogramma che in realtà ci fa solo vedere com'è la distribuzione dell'informazione fotografica tra bassa media alta luce dicevo non ci dice se ho bruciato o no l'immagine questo ce lo dice solo la nostra conoscenza perché neanche la foto che vediamo sul display ce lo dice il display è solo indicativo è un jpeg è un estrapolato di un firerow che viene trasformato in foto ma questa trasformazione viene attraverso un profilo colore se io scelgo profilo sul picture control sul icono sul controllo immagine su altri brand vado a selezionare che ne so scena alto contrasto oppure profilo neutro piuttosto che saturo io vedrò delle foto totalmente diverse con colori diversi contrasti diversi vedrò a volte bruciate se io metto un profilo neutro magari riesco a prendere un paesaggio visivamente dove si vedono le nuvole e le zone di bassa luce se metto contrasto buca i bianchi e addirittura a volte anche i neri gli estremi bassa e alta luce ma in realtà non ho bucato niente se io vado a sviluppare il raw trovo l'informazione sia in alta che in bassa luce sempre che ho esposto con un certo metodo chiaramente ma se io espongo nel punto esatto conoscendo la mia gamma dinamica e lo scarto di brillanza della scena quindi applico il sistema zonale in poche parole già di base posso acquisire qualsiasi paesaggio detto ciò tornando alle nostre foto che dicevo prima l'uso della luce artificiale in questo caso fa sì che l'incarnato sia privo di dominanti verdi dell'ambiente del prato verde su cui rimbalza la luce perché devo fare foto per un catalogo o anche nel matrimonio se ho una sposa che sta in controluce su un prato verde è chiaro che il suo abito bianco viene dipinto a macchia di colore ecco nel sistema io vabbè il sistema in post produzione significa che devo perdere ore del mio tempo e quindi sono tutte ore che poi vanno a gravare sul costo che io sostengo per il mio servizio fotografico per lavorare foto per foto perché la luce cambia i flessi cambiano sull'abito per lavorare in modo selettivo su queste macchie usando la tecnica base del feeling flash cioè metto il flash dosato sia qualitativamente che quantitativamente sulla scena posso andare invece a livellare queste diciamo queste dominanti cancellandole ma lasciando una luce che non impatta non il flash sparato come spesso si vede che in natura la foto si vede che c'è il flash ma facendolo in maniera molto tenue quasi impercettibile quindi dicevo tornando io faccio stasera vado in tutte le direzioni ma tornando alla foto che avevo fatto vedere qui all'inizio per dire ecco quando c'è un approccio alla scena come questo dicevo io non è che misuro la luce e poi mi adatto a quella oppure spongo viazzando allo zero io decido prima l'esposizione e poi metto la luce chiaramente in una situazione di condizioni dove c'è uno sfondo è chiaro che devo tener conto di quella luce lì per dare o meno una certa legibilità lo stesso se non voglio intervenire con luce arteficiare ma facciamo finta che sono qui in un paesaggio diurno io stabilisco prima di tutto il diaframma con cui scatto non è perché è un elemento fondamentale nella comunicazione visiva e nel rapporto soggetto sfondo uno sfondo evocativo fuori fuoco ma con uno sfogato controllato cioè è differente dire io apro così a casaccio f2 invece che f5 6 o f4 io so che a ogni ottica e distanza di messa a fuoco corrisponde una certa profondità di campo base no? perché sapete che la profondità di campo varia in base alla lunghezza focale distanza di messa a fuoco e diaframma quindi queste tre variabili due già le conosco a priori il diaframma è la terza variabile che impatta sulla luce quindi è quella che dovrò diciamo assolutamente ponderare bene perché in base a quella dovrò costruire la luce e lo faccio per la luce naturale e continua sull'ambiente attraverso tempi ISO per dare leggibilità o meno alla scena tenendo conto del mosso rischio del mosso sincronizzazione del flash con i tempi e così via quindi il tempo già è limitante dall'altra parte anche l'ISO se alzo troppo l'ISO per dire è un problema qualitativo se vado colpo certi soldi quindi sono tre variabili che devo gestire in maniera ponderata quando faccio un'esposizione ma l'esposizione la stabilisco in base a ciò che voglio cioè io stabilisco prima il diaframma il tempo eccetera poi è la luce che vado a mettere in base a quell'esposizione che ho fissa che determina l'atmosfera che voglio costruire cioè se voglio fare un incarnato più leggibile in bassa luce oppure un incarnato in una zona tonale più alta rispetto a quella naturale perché voglio fare un ritratto in IT per esempio in chiave alta io già so quanta luce mettere subito in base a quell'esposizione facendo una prima misurazione con questo giochino qui quindi quando vado faccio un esempio banale se io qui volessi scattare un ritratto ok con una luce che ho a disposizione già so che una luce chiaramente in un ambiente continua non c'è i flash non può essere impostata su ISO 100 chiaramente quindi immaginate che io metto ISO 800 ok e che voglio fare un ritratto con uno sfondo sfogato ma non di troppo quindi stabilisco un F4 questo mi dice che già dovrò regolarmi con i tempi quindi vado ad impostare il diaframma F4 in macchina e chiaramente mi metto alla soglia minima di sicurezza col tempo cioè con un 85 mm sarebbe un ottantesimo di secondo in realtà con la macchina stabilizzata la mano ferma un trentesimo ci può arrivare ammettiamo un sessantesimo di sicurezza quindi questa è la esposizione che io decido anche quando faccio gli schemi luce li spiego con i flash eccetera parto da questo io stabilisco prima diaframma ottica in quadratura perché è quello che condiziona la mia scena poi metto la luce e la quantifico ovviamente se la luce non basta cioè se adesso facessi una foto qui a un soggetto adesso non ho calcolato assolutamente niente a livello di esposizione non dato un po' occhio diciamo che lo sfondo esce aspettate che la luminosità del monitor è accecante un attimo che la setto subito perché voi la vedete bruciata perché ho delle camera fissa naturalmente quindi anche qui torna il discorso dell'esposizione dicevo la foto è esposta diciamo correttamente rispetto a questa luce ma io non voglio solo fare questo quando metto la luce magari voglio dare una certa leggibilità quindi la mia misurazione che farò sul soggetto sarà quella di misurare la luce di base che arriva sul viso del soggetto dove avrò una restituzione in base a isotempi e diaframmi in questo caso luce incidente ok adesso metto gli stessi ISO che ho messo in camera ISO 800 un sessantesimo di secondo eccolo qua e vado aspettate che ho riflessi eccoli vado poi a misurare la luce naturalmente quindi faccio una misurazione di una luce a caso sul soggetto f1 4,7 mi dice aumento la luce al massimo arrivo a un f2.4 immaginiamo che io già so che sul soggetto voglio dato che scatto f4 una luce che arrivi almeno a f5 6 quindi con uno stop in più perché lo voglio portare in chiave alta quindi in una zona di leggibilità più elevata a livello tonale quindi una zona che sta sulla scala di Adams in una zona 7 o immaginiamo quindi già sapete che dovrò mandare quanta luce in più il doppio e o vado sul mio dimmer e dico subito mando il doppio della luce uno stop in più o con il flash ancora più semplice oppure avvicino la luce in base alla legge dell'inverso del quadrato della distanza ma lo faccio senza poi rimisurare faccio un conto a spanne e già so che io più o meno mi posso sbagliare di qualche decimo di stop ma ho centrato non solo l'esposizione ma ho già caratterizzato il ritratto con una specifica atmosfera poi la bassa luce la schiarita ci sono tutte logiche anche lì adesso per chiudere un po' questa ghiacchierata introduttiva che spero non vi abbia annoiato per di tanto intanto la chat volevo leggere qualcosa ma ok c'è qualcuno che è andato via quindi siamo 97 infatti beh io ammetto qualcuno adesso dopo scedenza le donne diciamo entrare qualcuno dicevo che in poche parole quando vado a fare uno schema luce devo tener conto di queste regole allora queste piccole cose che vi dico stasera le trovate su un manuale che ho scritto per Nikon sull'uso del flash in esterna che è diciamo una piccola guida però queste cose ci sono per chi diciamo volesse scaricarlo lo può trovare sul mio sito dove potete trovare anche poi il link volendo al corso che inizia settimana prossima di Illuminotecni o tutte insomma le attività che faccio e ve lo lascio qui in chat è semplicissimo perché io ho il mio sito ecchio che a Francesco Frange lo sto cambiando adesso sto facendo un altro portale questa è fotografiadimoda fotografiadimoda.com slash corsi e lì ci trovate diciamo tutto questo l'accesso se vi scrivete la mail list c'è l'accesso all'area riservata e vi arriva subito questa guida via mail in maniera automatica quindi quello che adesso vi dirò in poche parole potete ritrovarlo in altra forma su questo piccolo manuale qualcuno di voi già lo so che ce l'ha perché ve lo visi conosciuti stasera quindi allora ve lo scrivo qua fotografiadimoda.com slash corsi ok qui trovate sia questo che l'eventuale possibilità di iscrivervi se vi interessa al corso base di luminotecnica dove? sul mio sito di fotografiadimoda.com slash corsi c'è proprio l'area su lighting trovate il corso e la modalità per l'iscrizione comunque a parte questo dicevo andiamo a vedere un po' qualche piccola logica allora innanzitutto guardate la luce ecco qui ho cercato di spiegarvi un po' il ruolo che ha la luce cioè quando faccio un'illuminazione di qualsiasi scena qui ne ho presi diversi dal ritratto che addirittura ecco questo è uno still life commerciale creativo dove c'è una luce descrittiva ecco quando faccio una foto come questa questa ragazzi non c'è post produzione l'ho fatta con addirittura è una pubblicità reale di appunto il profumo che state vedendo che ho realizzato per i miei allievi di qualche anno fa della foto academy e abbiamo fatto durante il corso di fotografia ho introdotto dei set reali quindi mi sono portato anche un po' di lavoro a scuola io mi avvantaggiavo il lavoro e loro vedevano come si faceva una botta al cerchio e una la botte come si dice in poche parole ho fatto vedere come si fa uno still life con mezzi molto semplici questo l'abbiamo fatto con delle cose comprate al ferramenta spendendo 30 euro di set fotografico ovviamente fatta eccezione per i tre flash a slitta con piccoli modellatori che ho usato per fare questo ecco qui la luce non ha uno scopo di creare atmosfere suggestive qui è un binomio esposizione luce che chiaramente qua non è un flash unico però è una luce prettamente descrittiva mentre spesso come in questo caso ecco qui invece è un set che ho fatto in esterno per una foto di moda dove ho dovuto mettere poi una luce di schiarita sull'abito perché vedete ho fatto l'effetto panda sugli occhi che comunemente è un errore io invece qui l'ho cercato perché esce un po' fuori dalle regole se vuoi fare una foto con l'effetto panda sotto luce solare zenitaria a mezzogiorno a degli sposi che escono dalla chiesa è un dramma in questo caso invece lo sguardo della modella era troppo dolce l'ho voluto caratterizzare lasciando proprio quest'ombra per fare questo sguardo quasi più cattivo più impersonale se vogliamo dire e ho fatto una posa a sirena questa vabbè è una foto che ho raccontato spesso dove in poche parole ho creato una sorta di catalogo per abito della sposa caratterizzando l'abito con una iconografia che evocasse qualche immagine legata all'abito stesso in sintesi abito a sirena iconografia della sirena sopra gli scogli ovviamente non stavo al mare per fare una location l'ho creata con dei cesti che in qualche modo richiamavano gli scogli qui ho lavorato sulle texture dell'abito una foto non è un'editoriale moda è più un catalogo in chiave diciamo editoriale perché era una foto da catalogo però diciamo più emozionali non la classica in studio fondo e bianco e quindi ho raccontato l'abito attraverso la texture che è fondamentale far capire come sono fatti i vizi piuttosto che la trama dell'abito da sposa al di là che è un'immagine dove non si deve vedere bene perfetto perché poi c'è il catalogo diciamo il lookbook dove c'è proprio l'abito in still life e te lo vedi però doveva comunque raccontarlo qui ho usato una semplice schiarita con una luce diffusa frontale per attenuare le ombre solo sull'abito vedere come pesano meno rispetto a quelle degli occhi o necessisti rispetto a quelle sul soggetto che invece ho voluto se volevo schiarire anche queste mettevo chiaramente la luce in modo tale da ottenere legibilità e annullare anche le ombre volendo quindi quando crea una luce ho vari scopi a volte molto pratici come in questo caso evidenziare texture e lasciare legibilità della zona in bassa luce a volte di atmosfera soprattutto di atmosfera faccio un esempio ritratto in chiave i glamour questa è la scena reale vedete il backstage che mi hanno scattato e questa invece è la foto che ho fatto io in camera con l'uso del flash per pulire le dominanti colore della piscina avete fatto male le foto in una piscina o al mare ci sono quei riflessi dal basso con le dominanti verdastre o blu che dipingono il corpo del soggetto o il viso addirittura che fanno quell'effetto in base a come bilanciare il bianco o verde o blu o magenta addirittura ecco se usate il flash tutto questo non serve semplice flash ovviamente qui diaframma più aperto come vedete l'esposizione è diversa usavo un'ottica diversa 135 mm quindi esposizione più in alto di uno stop e mezzo e naturalmente flash in fill-in ok quello che potete dire invece è proprio il sole che arriva qui in controluce quello è reale quindi immaginate che quando faccio una scena come questa questa l'ho fatta in notturna ho simulato la luce notturna ma l'ho fatta con tutta luce solare in un ambiente che volevo estromettere quindi ho creato una sorta di luce su un finto lampione ho messo il flash qui per creare questa atmosfera chiaramente dai toni molto newtoniani quasi quindi dove c'è questo gioco questo passo a due fra due modelle qui parliamo sempre di abiti da cerimonia e in un altro contesto però sempre quello è c'è scene emozionali qui addirittura foto quasi ambigue con una certa chiaramente iconografia che lascia intendere e non intendere perché sono immagini abbastanza surreali e decontestualizzate ma dove ci sono degli atteggiamenti molto carichi eccessivi quasi questo contrasto fra la decisione del nero e questa passività svenevole del bianco quindi metto in relazione questi elementi e con la luce dato che la scena in questo caso era penalizzante perché erano troppi elementi c'erano addirittura delle luci di Natale in giro su questa location e erano in Calabria e c'era un hotel dietro che si vedeva con dei colori insomma un paesaggio un po' misto che ha voluto annientare usando il flash quindi il flash serve anche per scopi creativi come in questo caso ma anche chiaramente non è che l'ho messo potevo metterlo frontale potevo metterlo di lato l'ho fatto simulando una ipotetica luce del lampione anche per creare questo calo di luce che poi qui ho ripreso con un pannello se no l'abito scompariva per effetto della legge all'inverso del quadrato della distanza perché i visi del soggetto erano molto più vicini al flash rispetto ai piedi quindi ho cercato di dare una suggestione anche attraverso questa sorta di luce dall'alto che non è un butterfly in questo caso è proprio una luce che non evoca nessuno degli schemi luce della tradizione di trattistica che poi tratto durante il corso ma che creasse questa ombreggiatura così proprio simil naturale e anche questo accento proprio sul volto rispetto poi al corpo che quindi completa il racconto fotografico attraverso questo cerchio questo circolo di fumo addirittura arricchire questa lettura quasi circolare dell'immagine oppure delle scene tipo questa cioè dove apparentemente sono in una spa cioè sono in una spa perché questa era una pubblicità per la Mercury Hotel ma ho creato le luci guardate qui dietro con i flash cioè le luci della spa non erano sufficienti per realizzare le mie immagini a ISO 200 100 perché questo era il limite che potete stampare su cataloghi vedete che questa foto è quella che sta in aeroporto potete immaginare ecco che se faccio una cosa del genere è chiaro che la qualità anche fotografica deve essere un certo tipo in quel caso ho simulato le luci d'ambiente senza snaturare l'atmosfera che realmente c'era ma sul soggetto sono andato a lavorare qui vedete questa è una foto addirittura di backstage era un provino non è stata ritoccata si vede il flash dietro qui c'è una luce che è una luce continua che in realtà è questa luce qua guardate è una led lancer molto potente che uso ogni tanto quando ho bassa luce per andare veloce sul set ho messo una luce di taglio e questa luce di taglio serviva a scontornare il soggetto ma anche la luce che arriva su delay serve a pulire un po' l'incarnato dalla sola dominante blu per esempio quindi resta chiaramente presente ma ho gelatinato i flash in maniera coerente a come erano le luci dell'ambiente quindi mettendo la gelatina magenta qui sul flash quella gialla sull'altro per come erano realmente le luci altre volte invece ecco in esterna fotografia pubblicitaria faccio l'esempio classico queste sono le foto direttamente dalla fotocamera dove le dominanti dell'acqua sono state azzerate anche in questo caso oppure creo delle atmosfere totalmente surreali con delle luci che addirittura avevo messo i flash in acqua su questo set dove riesco ad ottenere un risultato così già in camera grazie alla combinazione di flash gelatine e luce naturale chiaramente quando creo immagini surreali tipo questa dove ci sono luci di effetto qui ho lasciato vedere i riflessi ho messo addirittura un flash in acqua per fare questa luce che va in contraddizione con quella principale che va contro proprio quelle normali regole che normalmente spiego vado a snaturare l'immagine a favore di un'atmosfera surreale dove però chiaramente è l'elemento stesso surreale che io voglio mettere sul piano in altri casi come qua creo atmosfere più cinematografie qui ha un Rembrandt ambientato e il backstage di questo set guardate era un editoriale moda l'ho fatto partecipare anche i ragazzi dei miei corsi a darmi una mano avevo 20 assistenti su questo set ho creato tutto con la luce cioè qui non c'è color la post produzione era usata per cancellare le scritte sul muro perché era una location abbandonata ma come vedete tutto ho fatto con la luce per suggestionare e raccontare una storia dove il colore la scena l'atmosfera doveva essere molto carica no? Francesco scusami le luci delle finestre sono simulate o è la luce del sole? no no sono luci artificiali che ho messo io adesso vi faccio vedere il backstage guarda ok scusami faccio vedere questo video backstage poi torno un attimo sulla luce e poi vi lascio anche riposare sereno non so se si sente adesso bene l'audio perché non è un video ma l'ho messo qui sulle slide spero di sì grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mert e Marcus fanno una foto in moda con quattro luci e poi ci pensa il post producer. Non è così, no? Quindi quando vado a creare una scena, la luce va messa in maniera coerente con l'atmosfera che voglio fare per dare una certa emotività al ritratto. Perché poi nel ritratto, diciamo adesso lasciate perdere, questo è un set moda, ogni tanto io faccio qualche set dove porto i miei corsisti, quasi sempre attingo dai miei corsi. Adesso c'è il covid, siamo riusciti a fare ben poco, con i corsisti di match, siamo dati appuntamento appena sarà possibile per un mega evento dove faremo un set reale e condivideremo una giornata. Come vedete ci sono tanti schemi luce e ognuno di questi ha, esterno, interno eccetera, ha una specifica, come il Rembrandt per esempio, ha una specifica connotazione emotiva. Quindi lo schema luce vale per tutti i generi, dicevo, ma le regole che stanno alla base di questi schemi luce sono identiche, scusate, per tutti. E questo è di che cosa si parla quando si parla di sistema di illuminazione e queste sono le luci principali, cioè i ruoli delle luci più importanti. Quindi la key light, la luce principale che è quella che dà la coerenza all'immagine, che caratterizza il ritratto con una specifica atmosfera e ha delle caratteristiche. Quindi la key light, la luce dischiarita, anche questa deve avere un certo rapporto con la luce principale. Se avete visto dei matrimoni dove in chiesa, faccio un esempio, il fotografo ha messo due faretti, uno da una parte e uno dall'altra, ha già fatto l'errore più comune in illuminotecnica. Così come se l'hai visto, adesso non prendo poveri matrimonialisti perché li faccio anch'io, però adesso mi è capitato di vedere, pannelli dorati o argentati che riprendono il sole a mezzogiorno o nelle ore più alte dal basso e lo specchiano sulla sposa per schiarire le comune. Ecco, quelle sono proprio le cose che vanno contro i principi di ogni schema luce che esiste, diciamo, nella tradizione ritoattistica, nella storia dell'arte, nella pittura, nella luce in generale. Quindi ci sono proprio delle correlazioni precise che sono semplici in realtà, una volta capite, fra key light, fill light, quindi luce principale, luce complementare, luce d'accento, d'effetto e luce di sfondo. Quindi capite, chiaramente qui sono degli acceni su queste slide, poi si fanno in maniera più approfondita queste, però sono in realtà molto semplici. Capite queste? Noi affronteremo, è capito il sistema zonale, i principi basi della luce, quindi legge dell'inverso del quadrato, la modellazione, la diffusione della luce, la temperatura colore, la gestione del flusso luminoso, l'angolazione, i rimbalzi, eccetera, eccetera. Capite queste palle iniziali che possono sembrare scomode perché il mio metodo, cioè quello che si basa su mio perché mischio due cose che non sono mie ma diventa mio nel momento in cui le mischio, sistema zonale e luminotecnia. Quindi mettendo insieme queste cose riusciamo a avere un metodo che nei primi tre mesi, quattro, ci fa soffrire perché i miei allievi, anche chi è fotografo o commissionista viene da me per fare delle specializzazioni per esempio, ma si trova, dice come io per vent'anni ho ragionato così, ormai sono abituato così. Soffri un po' di più all'inizio per poi trovarti un vantaggio incredibile a livello di tempo dopo, perché quando sei sul set tornando all'origine, a Hugo Mulas, al linguaggio, e a tutto quello che ho detto all'inizio della serata, è qui a chiudere un po' il cerchio, quando ci troviamo davanti ad una scena non dobbiamo pensare alla luce. Cioè il paradosso è proprio questo, io devo riuscire a gestire l'illuminazione senza pensarci. E devo riuscire a concentrarmi sui soggetti, sulla mia scena, su quello che è l'applicazione del mio progetto. E devo lavorare sulle motività dei soggetti, li devo dirigere. C'era un mio vero collega, che è morto, che è Alfredo Sabarini, che diceva se tu vuoi far ridere, era un ritrattista, anche lui fotografo anche di moda, eccetera, dice se tu vuoi far ridere una persona, o farla piangere, o fargli fare qualsiasi cosa sul set, tipo urlare, saltare, non devi dirgli salta, ridi, urla. Devi ridere con lei, urlare, farla ridere, urlare con lei e saltare insieme a lei. Cioè devi essere tu che attraverso una serie di, cioè quello è proprio un asset mentale, cioè il fotografo in realtà, il ritrattista specialmente, non è quello che fa clic, inquadra e compone o mette lì la lucina, è quello che lavora proprio sul soggetto, perché poi è lì che spostiamo l'asticella e dove si identifica il nostro stile. È fra la scelta, sì, della composizione e tutto quanto, ma poi lo stile lo fai proprio nella luce, relazione alla posa e allo sfondo che tu stai creando con la singola immagine, cioè questi sono gli elementi su cui giochi. E sulla filosofia che c'è dietro, il collegamento fra i vari scatti. Quindi, dicevo, l'approccio che noi possiamo avere è quello di, ok, io la tecnica la conosco talmente male che vado a casaccio e poi l'aggiusto dopo e ci metto un mese, oppure io in quel set vado veloce, sono efficiente, ottengo i miei scatti che mi sono rifissato subito per poi lasciare spazio alla fantasia e alla creatività, cosa che la luce, come avete visto, mi aiuta anche a tirar fuori, perché la luce non è solo plagio la luce per le mie idee fotografiche, ma spesso è da spunto per delle idee, no? Perché mi offre opportunità che la luce naturale non mi può offrire, come quella di oscurare il giorno e creare una scena notturna in pieno giorno, faccio l'esempio più banale. Quindi attraverso l'uso di questa competenza io posso permettermi di lavorare sul soggetto, finire il mio lavoro in maniera efficace, non dover passare ore in post-produzione, che per me è fondamentale, io la odio stare lì davanti al computer, no? Faccio un esempio, il matrimonio, se tu lavori 40 ore in post-produzione, guadagni X euro, se lo dividi per 40 ore è lavorato a 8 euro l'ora. Se tu non fai la post-produzione, magari ti ammazzi sul set con gli assistenti, eccetera, quel giorno, perché un conto è lavorare con la luce naturale, il diaframmino aperto, i soalti, un conto è mettere le luci in chiesa, fuori dalla chiesa, con l'assistente che corre dietro, che si prende i miei urlacci in base a dove voglio che mette la luce, facendo tutto in manuale, senza DTL, automatismi chiaramente, ovvio, e andando veloci sul set, perché sapete che le scene vanno fatte in velocità, io mi faccio uno sforzo quel giorno per poi trovarmi a fare nulla dopo, una sola selezione. Questo è uno degli aspetti. Il secondo aspetto è che quando ho davanti un soggetto e ho un'idea, voglio fare delle cose e ci metto ore per farle, non solo ci metto più tempo e poi non lascio spazio ai miei ritagli. Per esempio, io faccio una campagna pubblicitaria, no? Faccio le foto dei modelli, le modelle per la campagna. Se io vado veloce sul set e finisco alle 4 e mezza del pomeriggio, anziché alle 18 e 30 o alle 19, io ho due ore e mezza a disposizione per fare i miei scatti, quelli di portfolio, quelli che voglio fare, delle alternative al mood board, allo storyboard, che avevamo prefissato alle linee guida della campagna, dove magari, faccio l'esempio, Peter Lindbergh ha fatto spesso così. C'aveva tutto un copione da seguire, ha fatto le foto, poi ha fatto le foto di backstage alla modella, messa in un atteggiamento che a lui piaceva, creato sul momento, e hanno scelto quella per fare la campagna pubblicitaria. Quindi do più spazio a me e ai miei progetti, ma soprattutto, e qui chiudo, riesco a lavorare con il soggetto senza interruzioni, senza, aggiusta un attimo qua la luce, no, regola, aspetta, vado a tentativi, senza guardare mai sulla fotocamera. Quando scatto la foto, io questo lo faccio spesso nei set e lo dimostro, chiedo al pubblico, ragazzi, scegliete uno schema luce, immaginate la luce, ditemi che scena volete, io metto le luci, faccio due misurazioni, quando scatto la prima foto, mi anche la guardo, vado subito, faccio una sequenza e nove foto su dieci, quindi il 90% della produzione fotografica deve essere già perfetta. Quindi faccio, non perché so bravo io, attenzione, io non venivo per pensare, io facevo un altro mestiere da ragazzino, ho iniziato a fare un altro lavoro, poi mi sono trovato facendo fotografia, ho lasciato perdere quello per fare fotografo, ma io venivo da un altro mondo, poi si è messa in mezzo la luce, la direzione della fotografia, l'ossessione, ma la cosa che mi ha aiutato molto veramente è che la conoscenza maniacale, quasi l'aspetto tecnico della luce, soprattutto dell'esposizione, mi ha permesso di non guardare mai sulla fotocamera e di andare a lavorare in maniera molto più diretta col soggetto. Cioè io ho imparato nel tempo a lavorare con le persone, scattandola, voi vedete le modelle, spesso qualcuno dice, ah ti piace vingere facile, sì ma io ho iniziato con la vicina di casa, con mia nonna, la prima foto che ho fatto è il ritratto a mia nonna, Carlo la conosce, Carlo è il mio amico d'infanzia, sta qua. Posso confermare? Ecco, quindi, faccio vedere, la faccio vedere così, questo è uno dei primi ritratti che ho fatto, i soggetti erano questi, ma io ci lavoravo, perché per fargli ottenere quell'espressione, quella posa, non dovevo fargli sentire il peso della fotocamera, perché mia nonna poi era molto timida, era restia verso la fotocamera, quindi gli mettevo, poi lavoravo a quei tempi a pellicola col medio formato, avevo un'azienza bronica qua, quindi immaginate una fotocamera pesante, ingombrante, una persona che si sente già in soggezione, tant'è che io quando scatto, proprio non uso mai mettere la fotocamera davanti, se non all'ultimo secondo, e questa è una delle cose che spiego quando parlo di gestione del soggetto, aspettate che la trovo, spero di trovarla, qui ho un milione di slide, Niente, aspetta. Non è importante. Per concludere un po' la serata con la foto di mia nonna, che era una persona squisita, eccola qua. Quindi questa espressione che sembra un ritratto rubato, in realtà è frutto di un lavoro di posa, cioè io stavo lì e la facevo sorridere nel suo atteggiamento, cercando quello che era, la vedete un po' bruciata ragazzi, perché quando l'ho trastata qua, però in realtà sulla pellicola assicuro che la stampa non è bruciata. dove il suo atteggiamento doveva rispecchiare proprio la sua semplicità e gioia di vivere, perché lei era proprio così, era umana, buona, affettuosa, eccetera. Io dovevo riuscire a portarcela però, perché volevo uno scatto consapevole, non volevo aspettare il momento in cui lei parlando con mia zia faceva il sorriso e io la coglievo in quel sorriso, che poi poteva anche essere quasi non perfettamente in linea con quello che era la sua essenza. Quindi, diciamo che senza presunzione, perché ripeto, questo scatto non racconta tutto di lei, ma sicuramente si avvicina in qualche modo a ciò che lei rappresentava per me. Ecco. Quindi, per dire, insomma, per mettere la parola fine a questa serata, volevo dire proprio questo, che conoscere le cose serve a non doverci pensare. e quindi avere un progetto di base e saper gestire elementi come luce, esposizione, composizione naturalmente, e avere anche una cognizione di quello che si vuole far fare, ad esempio, in delle pose e degli atteggiamenti, perché io, infatti, ripeto, queste cose vanno di pari passo, tant'è che per la prima volta quest'anno ho fatto un percorso, sono partito dal corso base, come rinizierò adesso per una settimana, poi intermedio la luce, però parallelamente la comunicazione visiva e la gestione del soggetto. Quindi altri due argomenti collaterali che fanno parte, naturalmente, del background che chi fa il ritrattista dovrebbe avere. Per chi fa la foto sportiva, no, basta la luce, basta conoscere bene quello sport, tecnica fotografica, e va bene anche così. Quindi lì, diciamo, è una cosa più settoriale, no? Però per tutto il resto, questo è. Allora, ragazzi, io ho fatto un discorso, ho spaziato a destra e manca, come si dice qui da noi. Quindi, diciamo, sono stato un po' lineare per toccare più tematiche possibili, ma questo per cercare di farvi capire quanto è ricco questo argomento e quante sfere toccano nella comunicazione visiva. Quindi un po' il significato. Io mi ero prefissato di fare un'oretta scarsa per fare una chiacchierata, invece è andata le lunghe. Allora, vi dico solo due cose. Domani sera parte il corso, il corso è articolato in quattro altre lezioni, quindi chi si è iscritto al corso, che in realtà pensava che si iniziava stasera, si inizia la prossima volta, stasera è stata l'introduzione, ma di fatto era una lezione che era un po' spalmata. Sono sei lezioni, scusate, perdono, altre sei lezioni ci abbiamo. Quindi sono sei lezioni serali, tutti i martedì a quest'ora, alle 21, 21, 23, andiamo sulle due ore a serata, e saranno sei lezioni, e l'ho messa allo stesso prezzo che lo mettevo normalmente a quattro lezioni, proprio perché il Covid ci sta distruggendo, e quindi chiaramente, no, scherzo, però di fatto stiamo tenendo conto anche per il discorso del famoso pricing, cioè quanto mettere i corsi, proprio di questa situazione qua, perché per i contenuti e dei costi che sosteniamo, diciamo che il prezzo è basso, sono 120 euro per sei lezioni. Quindi immaginate che è un costo, beh, tutto è relativo, però rispetto al corso fa sicuro che è basso, proprio perché... No, è solo la lezione di oggi. Una modella. La lezione di oggi già vale. Però diciamo che stiamo razionalizzando, come si dice, in base proprio a queste esigenze. Quindi tutti i corsi da qui in avanti ci hanno già delle... Chiaramente ci sono 30 euro di iscrizione, una tantum alla scuola, per poter fare poi X corsi, quelle si faranno solo la parte iniziale, e quindi sei serate con il corso base. Poi ci sarà il corso sulla comunicazione visiva, il corso avanzato e così via. Francesco, perdonami, una domanda. Io già mi sono iscritto al corso che comincerà martedì prossimo. La modalità sarà sempre questa, giusto? La modalità è sempre su Zoom. Allora, a volte facciamo teoria con le slide, a volte c'è il set con la modella. Sì, sì, il programma a letto era per capire se entravamo sempre da Zoom. Sempre da Zoom, sì, sì, no, ma si fanno dei gruppi WhatsApp, sia via mail, sulla vostra mail, che sul gruppo WhatsApp per ogni corso. Ok. Vi ho mandato il link della serata poco prima, quindi... Ok, mentre, visto che sono in domanda, se volessi comunque fare un percorso comunque, diciamo così, completo, è seguire anche le altre lezioni, considerando che per il tuo modo di pensare, di lavorare su quello che è la luce, io non ne so praticamente niente, perché diciamo che lavoro come fotografia all'antica, comunque, cioè, di luce naturale, fondamentalmente... Aspetta, aspetta, perché anch'io ho lavorato di fotografia... No, no, come dicevi tu, magari... I fotografi all'antica scattavano quei flash sul set e fuori lino. No, con luce naturale, intendo, in questo senso. Ah, vabbè, è un altro progetto. Diciamo così, luce naturale, oppure il flash sparato un po' senza molto studio dietro. Volevo capire un attimo se si riusciva a fare tutto ciò, si riusciva a fare tutto ciò, visto che tu hai programmato, diciamo, le lezioni in tempi diversi. Certo, no, 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 questo è il percorso proprio parte da... Il base già li prepara per fare schemi luce, eccetera. L'avanzato poi entra più nel merito di cose specifiche, tecniche, e di schemi luce più complessi, dove facciamo beauty, fashion, eccetera. Ok, e questo quindi... Questo è un percorso che parte da adesso in avanti, quindi finisci il base, poi ci sarà l'altro. Il mercoledì sera, invece, partono dei corsi specifici che ho fatto soprattutto per chi già conosce la luce, gli ha fatto già i corsi con me avanzato. Sono dei master di specializzazione che non riguardano più la luce bassa, ma riguardano un genere, lo stile nel glamour, nella cosa seduttiva, che sia nel ritratto che nelle foto proprio di glamour, i filoni, le iconografie, lo studio della ricerca della luce, dello scenario, eccetera, eccetera. Per la moda, invece, la costruzione di un editoriale moda, per chi fa fotografia di moda, ma anche per chi fa ritratto o per chi fa progetti, è il metodo per creare dei progetti che siano efficaci, quindi una comunicazione in diretta e quello partiranno mese per mese, parte adesso il glamour, il mercoledì sera, mentre il percorso che inizia adesso ci sarà tutti i martedì sera, ok? Illuminotecnica. Illuminotecnica è martedì? Il martedì, esatto. Perfetto. Per la registrazione, perché giustamente io vivo in Colombia, perché è un problema di fuso orario. Saranno registrate, le elezioni sono registrate, se ci siete le potete registrare già direttamente sul computer. Se non ci siete, una sera perché è mancata, vi mandate la registrazione. Però è chiaro che è meglio farlo in presenza perché si interagisce, ma è per rivederla. Le cose che hai detto oggi sono state tantissime, cioè ogni 30 secondi erano sei mesi di corso, con tutto il rispetto. Le cose che hai detto sono state tante. No, è stato molto, molto secolo. Lo sfiorate, diciamo. Lo sfiorate perché non c'è il tempo materiale. Volevo far vedere un po' a 360. Hai dato pennellate di luce, diciamo che hai dato pennellate di luce. Molto belle. Però quello è, però sono argomenti che uno deve riflettere, diciamo. Allora, la serata abbiamo detto che questa serata qua metterò la registrazione, spero che ci siano problemi, perché la metterò sul, la metteremo con, adesso usando l'Adams, o sul canale YouTube dell'Adams, comunque la renderemo pubblica per chi magari soprattutto vuole partecipare alla serata e per i limiti di Zoom oltre 100 non ammettere. Eh sì, io non sapevo che era per tutti. Basta che blocchi la mia frase sui fotografi all'antica e siamo a posto, eh? Ah, tranquillo, vabbè. No, sto scherzando, sto scherzando. No, l'importante è sapere come, come, come vedere la, la registrazione, perché le cose che hai detto sono state, diciamo, diciamo, ah, vabbè, in realtà non ho detto tanto, ho detto quello che potevo, guarda. No, 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 io ho scritto che sei l'Andres Feninger italiano, molto, molto bravo. Adesso non mi lo singare, però, eh? Dai, Francesco, scusami la domanda, Francesco. Questo percorso formativo, ciao, sono Vincenzo. Ciao, Vincenzo. Questo percorso formativo, eh, che tu stavi parlando, è sempre, eh, con l'Adams, oppure sono one to one? Diciamo, gli altri corsi. No, con l'Adams, tutti con l'Adams, quelli che vuoi citare. Ah, ok, perfetto, perfetto. Quelli che vuoi citare, adesso i workshop sono tutti in collaborazione con il centro studentale e il programma. Perfetto. Quindi, anche l'Elezione ha detto, non ho capito dove metti. Scusa, Maurizio, dicevo che le lezioni invece che faremo nel corso saranno registrabili, quindi, le potete registrare chi partecipa alla diretta e chi non partecipa e viene mandata via mail o su Google Chat, che si fa così, o su WeTransfer e uno se la scarica e la mette sul PC di San Giardino. Ok. E apposta, è sapere come è questo, perché io la voglio, la vedo, come quella di stasera, ma la voglio rivedere. Non è una lezione vera e propria, diciamo, ho spaziato al mente tanto su più argomenti che è più una chiacchierata sulla luce. È una lezione produttiva, ecco, quindi, però la registrazione di questa noi la metteremo proprio in onda, probabilmente, sul canale YouTube del centro sperimentale di fotografia. Ok. Quella condividerò io sui miei social, su Facebook, eccetera, metterò il link al... prima per valutare la cosa, è www.fotografia.com.br, lo riscrivo, lo scrivo qui sulla chat, non so se tutti la vedete. Eh no, quella prima non l'ho vista, quella del link, infatti quella del link non l'avevo vista. punto com, punto com, slash, corsi. Oh, vi ricordo che... E tu seguite? Sulla chat. Vai sotto su chat, chattare, e ti apri la chat, vedete? dicevo che naturalmente eh per se vi scrivete la mia mailing list riceverete eh anche eh nuovamente il link al sito, a tutto quanto, quindi se vi scrivete la mia mailing list io ne so, le mando una al mese, massimo due al mese, non vi primo con le mail, dove spesso però metto anche dei codici sconto per attrezzature, informazioni sui corsi e qualche contenuto gratuito, cerco di solito di articolarla così, in base a quello che che c'è. Francesco ma mi sa che c'è qualche problema sulla chat eh? Perché il link che ho appena inviato nemmeno io lo utilizzo. E sono sulla chat. Bravissimo. Vincenzo. Non riuscite a prenderlo? No, non arriva proprio. che avevi scritto. Nemmeno quello che avevi scritto prima. Vabbè, allora guardate ragazzi, ve lo dico a voi. È semplice. fotografiadimoda.com Ok? Fotografiadimoda.com Flash Corsi, lo slash, la diagonale, quella sopra al set, per capirci. Ok? Quindi, qualcuno la letta, però la vedo, perché c'è Angelo. Non lo so. Però quell'altra, la prima che avevi scritto? Era sempre questo. No, no, era sempre questo. Ah, sempre era questo. Sì, era sempre questo. Ok, io già sono iscritto, già ho fatto tutto il pagamento. no, no, io parlo per chi, magari sta qui, e diceva bene, quasi quasi, mi iscrivo, dice dove vado, che faccio? Ecco, almeno ho lasciato riferimento. Va bene, io vedo, non so se qualcuno è ancora collegato, allora accendete tutti le webcam, così vi saluto, se potete, probabilmente. Ok, sono arrivati. Adesso ci, adesso dobbiamo, adesso è arrivato tutto, adesso è scritto, è scritto. Io vi saluto in maniera virtuale, perché non ho la webcam attiva, però è stato veramente molto interessante, essere, è vero. Ok, e niente. Saluto anch'io, sono Vittoria, vi saluto anch'io, molto, molto interessante, Francesco, grazie mille. Ciao Vittoria, grazie. Dal tropico, quando vieni in Colombia a fare il corso? quale donna sono bellissime? Magari, qui in vita, ho detto io. È chiaro, è chiaro, è chiaro. Mi sa che qua veniamo tutti, eh. Ma guarda che, con barbo o senza. Come vuoi, come preferisci. Allora, intanto sto...